Cari amiche e cari amici, nel precedente video ho parlato di questa lotta occulta che sta accadendo in questo momento e di come le forze spirituali siano realmente in combattimento con le forze infere e telluriche senza che Bergoglio faccia catecon, l'unico a farlo è il Benedetto XVI, ossia l'unico a opporsi alle forze infere. In questa prospettiva va visto adesso, meglio per voi va ascoltato, quello che andrò a leggervi. Voi sapete che ha fatto scalpore la notizia dei carabinieri nei confronti di Don Lino Viola, che è parroco di Gallignano, perché ha celebrato una messa mancando alle norme di emergenza che vietano la celebrazione della messa in presenza dei fedeli. La cosa pazzesca, io ho visto una fotografia, questi fedeli, la chiesa era talmente grande, i fedeli talmente pochi, che erano a distanza di più di dieci metri l'uno dall'altro, tutti con la mascherina, e le ostie venivano date con una pinza. Quindi attaccarsi proprio alla legge che non è fatta per gli uomini ma contro gli uomini in questo caso. E sentite cosa la diocesi di Cremona come è intervenuta, con una nota, ve la leggo. Riguardo alla vicenda, pur consapevole dell'intima sofferenza e del profondo disagio di tanti presbiteri e fedeli per la forzata e prolungata privazione dell'eucaristia, non può non sottolineare con dispiacere che il comportamento del parroco è in contraddizione con le norme civili e le indicazioni canoniche che ormai da diverse settimane condizionano la vita liturgica e sacramentale della Chiesa in Italia e della Chiesa nel Cremonese. La diocesi sente il dovere di ringraziare tutti i presbiteri cremonesi che in questo difficile periodo hanno saputo esprimere un profondo senso di comunione e di appartenenza ecclesiale anche attraverso il rigoroso e puntuale rispetto dell'attuale normativa, consapevoli della responsabilità che la Chiesa ha nei confronti della società civile e della salute dei nostri concittadini. Questo lungo periodo emergenziale ha visto presbiteri e fedeli accomunati nella intelligente e appassionata ricerca di tutti quei mezzi e strumenti che hanno in qualche modo supplito alla dolorosa mancanza della vita liturgica e pastoriale ordinaria dalle nostre comunità. La Chiesa Cremonese guarda con ponderata fiducia ma soprattutto con sapienza evangelica al tempo in cui ci sarà dato modo di riprendere con gradualità e prudenza le celebrazioni comunitarie e le altre forme di vita pastorale delle nostre comunità e condividere in spirito di comunione lo sforzo della conferenza episcopale italiana per comprendere d'intesa con l'autorità pubblica quali saranno i prossimi passi che la provvidenza ci chiamerà a fare. Vigliacchi! Non è intesa con l'autorità pubblica! Questa è sottomissione all'autorità pubblica! Schifosi massoni! Siete degli schifosi massoni! Ormai la Chiesa veramente è rovinata da questa gente! Danno in testa a questo povero sacerdote che con una chiesa enorme quei pochi fedeli che c'erano erano a distanza di 10 metri l'uno dall'altro tutti con le mascherine era impossibile una contaminazione quindi questi vigliacchi della diocesi che danno in testa a questo povero sacerdote bisogna ribellarsi dobbiamo rimboccarci le maniche e fare da noi ma poi datemi una ma non mi fate fare tutto da solo perché adesso non ho tutto questo tempo cercate la mail di questo sacerdote e la mail del sindaco e scrivetela qui sotto questo video così manderemo mail di solidarietà al sacerdote e mail di protesta al sindaco sempre senza insulti in maniera molto civile questa deve essere la nostra forza ma per questo il decimo toro mi dovete aiutare a farlo crescere anche per prendere questo tipo di iniziative vigliacchi sono dei vigliacchi sono dei farabutti lavorano per le forze infere e del resto Bergoglio al vertice c'è Bergoglio che cosa ci si può aspettare quindi cari amiche e cari amici cattolici e non cattolici ma di buon senso uomini e donne di buon senso buona volontà rimbocchiamoci le maniche e pensiamoci noi ad aiutare in questo caso questo povero sacerdote a dargli solidarietà vigliacchi vigliacchi alla conferenza episcopale vigliacchi i vertici del vaticano e vigliacchi tutti quelli di questa diocesi che schifo che schifo immondo pollice su per il mio lavoro sempre inchiodati al decimo toro un caro abbraccio a tutti marco cosmo grazie a tutti